Zamparutti, prego, due minuti. Sì, grazie Presidente. Sicuramente alcuni di noi sono al corrente del fatto che nel carcere di Lecce, tra la notte di sabato e domenica scorsa, è deceduto un detenuto di origini rumene e pop Virgil di 38 anni, dopo aver condotto uno sciopero della fame per 50 giorni. Ma non è tanto su questa ennesima morte per carcere che io intervengo, quanto sulle parole pronunciate dal vice direttore del carcere di Lecce nella giornata di ieri, Giuseppe Renna, che ha parlato dell'esistenza di 30 o forse 40 persone in sciopero della fame nelle stesse condizioni di Pop Virgil. Io credo che questa sia una dichiarazione, siano parole di una massima gravità rispetto alle quali io chiedo che il Ministro della Giustizia venga con la massima urgenza a riferire in quest'Aula. Grazie.